Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. È passato davvero tantissimo tempo dall'ultimo video che ho pubblicato qui su YouTube, ormai più di un anno, forse anche un anno e mezzo. Però niente, eccomi qui pronto e carico per ricominciare. In tutto questo tempo non sono stato fermo, ho fatto tantissime cose. Come vedete poi da nuovo setup mi sono trasferito qui in una nuova casa con la mia ragazza. Quindi arriveranno anche dei video su quanto costa andare a vivere da soli, tra utenze, affitto, eccetera. Comunque arriveranno. Mentre oggi siamo qui perché vi voglio parlare del conto corrente BBVA. Un conto corrente che io ho aperto circa due mesi fa e che mi ha già fatto guadagnare senza fare nulla, tra virgolette. Semplicemente perché offre un rendimento del 4% lordo anno sulla liquidità tenuta appunto sul conto corrente. Qui è dove mi è arrivata la carta, che comunque magari vi lascio in sovraimpressione, ma la carta non è nulla di che. Vi farò vedere anche un foglio Excel che ho realizzato che permette di calcolare quanto si può davvero guadagnare con questo conto al netto anche dell'imposta di bollo e delle tasse che vengono applicate appunto sui rendimenti. Rimanete con me fino alla fine del video perché vi parlerò della promo che c'è in questi giorni, promossa appunto da BBVA, che riconosce a chi apre il conto, quindi ai nuovi utenti, un bonus di benvenuto diciamo cumulativo fino a 290 euro, quindi niente male. Io finora ne ho guadagnati 160 ma punto a guadagnarne un altro po'. Per chi non mi conoscesse, io sono Andrea Zaccarelli, sono un ingegnere informatico che sui social parla di finanza personale, investimenti e modi per guadagnare online. Se anche tu sei appassionato come me di questi argomenti, allora metti il telefono in verticale, clicca sul tasto iscriviti e lascia anche un mi piace in modo che YouTube possa poi consigliarti altri video come questo. Sono anche poi il fondatore di Andrea Zaccarelli.com che è un blog di divulgazione finanziaria che permette a chiunque, anche a te che stai guardando questo video, di guadagnare diverse centinaia di euro grazie all'elenco aggiornato con le promo e i bonus di benvenuto più vantaggiosi offerti da banche e siti di investimento. Trovi il link sia qua sotto in descrizione oppure semplicemente scrivi andreazaccarelli.com su Google. Detto questo iniziamo dicendo che cos'è BBVA. BBVA sta per Banco Bilbao Vizcaia Argentaira, scusate la pronuncia, ed è un gruppo bancario multinazionale e nonché la prima o seconda banca per dimensioni in Spagna. Giusto per darvi un'idea possiamo paragonarla al gruppo Unicredit che sicuramente conosciamo meglio qui in Italia, quindi non stiamo sicuramente parlando della piccola banca spagnola. Ma se è un gruppo così grosso come mai non ne ho mai sentito parlare perché hanno deciso di entrare, di aggredire il mercato italiano solamente dal 2021, quindi in Italia prima del 2021 nessuno sapeva cosa fosse BBVA. Ma veniamo al dunque, vi sto parlando del conto corrente BBVA perché fino a gennaio 2025 viene dato un 4% lordo anno sulla liquidità del conto corrente. Cosa significa? Significa che se io apro un conto corrente BBVA e ci metto dei soldi sopra, questi soldi generano un rendimento del 4% lordo anno così senza fare assolutamente nulla. Ed il bello è che questi rendimenti, questi interessi, questi profitti ci vengono accreditati mensilmente direttamente sul nostro conto corrente. Ok Andrea, ma il 4% tra l'altro lordo non è chissà cosa. Sotto un certo punto di vista sì, però tenete in considerazione che per avere questo tipo di rendimento non stiamo né investendo né tantomeno vincolando i nostri soldi. Di fatto è un conto corrente a tutti gli effetti che però mi fa guadagnare qualcosina. Non rinuncio a niente, non investo i miei soldi, non li vincolo in un conto deposito ma allo stesso tempo mensilmente ho un qualcosina in più. Ovvero questo 4% lordo anno e secondo me è una figata. E se vi steste chiedendo quant'è il netto che mi entra in tasca, quanto guadagno davvero con un 4% lordo anno sulla liquidità, non vi preoccupate perché adesso vi faccio vedere un foglio Excel che ho realizzato proprio per calcolare il netto. Eccoci qua sul mio computer. Stiamo guardando il foglio Excel che appunto ho realizzato dove troviamo una sezione parametri, dove mettiamo appunto la liquidità e una sezione dove invece viene calcolato quello che è il guadagno e il rendimento netto. Se volete voi calcolare quello che potrebbe essere il vostro rendimento netto, i vostri interessi, trovate il link per accedere a questo file condiviso, Google Sheet, qua sotto in descrizione oppure sempre sul mio sito www.andreazzaccarelli.com Vediamo che inserendo 20.000 euro di liquidità sul conto corrente otteniamo un interesse netto, al netto di imposte, bollo eccetera, di 46 euro mensili pari a 557 euro annuali che corrispondono a un 2,80% ok, arrotondiamo, rispetto al 4% lordo che ci viene detto inizialmente. Quindi un 4% lordo su 20.000 euro corrisponde a un 2,8% netto. Come siamo arrivati a questa cifra? Ho messo qui la formula, un pochino complicata. In realtà è molto più complicata la formula qui sul foglio Excel che quello che vi sto per dire perché questo 2,79% è stato calcolato tenendo in considerazione di 34 euro e 20 centesimi che sono l'imposta di bollo sui conti correnti che hanno tutti i conti correnti in Italia se superano i 5.000 euro e tenendo in considerazione il 26% di tassazione che hanno i rendimenti da capitale, ok? Quindi facciamo una prova con 4.999 euro quindi un conto corrente non soggetto all'imposta di bollo vediamo che il rendimento è superiore prima era del 2,79% netto mentre con un conto inferiore a 5.000 euro abbiamo un 2,96% netto proprio perché non viene applicata l'imposta di bollo di 34,20 euro l'anno Detto questo, quando magari andate a fare i calcoli per capire se vi conviene spostare la vostra liquidità o meno tenete in considerazione che molto probabilmente state già pagando l'imposta di bollo sul conto corrente che avete adesso Per fare un esempio, facciamo finta che io ho 10.000 euro sul conto Unicredit sono indeciso se spostarli su il conto corrente BBVA e voglio quindi calcolare un po' quelli che potrebbero essere i miei rendimenti netti ovviamente devo tenere in considerazione che sto già pagando in Unicredit ho detto una banca per dire 34,20 euro di imposta di bollo annuale quindi quando vado a fare i calcoli per capire quanto potrebbe essere il mio rendimento netto con il conto corrente BBVA sull'imposta di bollo sotto questo punto di vista è giusto considerare 0 quindi mettendo 0, ovviamente anche con 10.000 euro ottengo il 2,96% netto questo perché l'imposta di bollo la pago adesso su BBVA ma la pagavo anche prima quindi quello che ci vado a guadagnare spostando magari su BBVA è questo 2,96% netto facciamo giusto un altro paio di esempi con 30.000 euro guadagno 74 euro al mese, 888 euro l'anno, sempre un 2,96% netto con 50.000 euro sul conto corrente guadagno 123 euro al mese quasi uno stipendio medio italiano l'anno in più senza fare assolutamente nulla spariamo la grossa con 100.000 euro giusto per vedere quanto viene abbiamo un guadagno netto mensile di 246 euro e circa 3.000 euro in un anno giusto due parole sulle colonne e sulle righe che ho nascosto torniamo a una cifra un pochino più reale 20.000 euro perché BBVA oltre ad avere un prodotto che è il conto corrente con il 4% lordo annuo offre anche un conto deposito di 12 mesi non vincolato con il 5% lordo anno di interesse mettere i propri soldi su un conto corrente deposito significa sempre che li vai a vincolare poi ci sono conti deposito in cui tu proprio non li puoi prelevare prima della scadenza in questo caso 12 mesi altri conti deposito detti flessibili o non vincolati invece ti permettono comunque di prendere i soldi in anticipo rispetto alla scadenza che avevi preventivato prevista appunto dal conto deposito però comunque sempre con degli svantaggi oppure delle sorte di sanzioni chiamiamole così nel caso di BBVA qualora decidessi di prelevare i tuoi soldi dal conto deposito prima della scadenza dei 12 mesi non ti verrebbe più riconosciuto il 5% lordo di interesse ma solamente un 1% sempre lordo quindi diciamo praticamente niente detto questo io avevo aggiunto queste colonne perché dovevo rispondere alla seguente domanda io avevo fino a qualche mese fa tutta la mia liquidità su un conto corrente di Unicredit sono venuto a conoscenza di questi prodotti offerti da BBVA e quindi mi sono chiesto cosa mi convenisse di più tra spostare tutta la liquidità sul conto corrente BBVA al 4% lordo anno oppure mettere magari parte della liquidità che avevo su Unicredit su BBVA sul conto corrente e parte sempre su BBVA ma nel loro prodotto conto deposito non vincolato 12 mesi al 5% lordo anno quindi per rispondere a questa domanda mi sono fatto questo foglio Excel dove caso 1 è quello dove tengo il 100% della mia liquidità solamente sul conto corrente il caso 11 più estremo è dove invece ho il 100% della mia liquidità sul conto deposito non vincolato 12 mesi ovviamente qua abbiamo il calcolo dell'interesse netto mensile e l'interesse annuale sempre netto da considerare che con il conto deposito gli interessi non vengono pagati mensilmente ma alla fine dell'anno alla fine del periodo di scadenza proprio perché se non arrivi alla fine non ti vengono praticamente riconosciuti interessi se non questo 1% lordo e altra considerazione è che sui conti depositi come ho scritto qua c'è l'imposta di bollo che anziché di essere di 34,20€ come fissi sul conto corrente è un 2x1000 cioè un 0,2% sulla somma depositata nel conto deposito quindi insomma questi sono i risultati come vedete interrompo il video giusto 10 secondi per dirti che se vuoi mandarmi un messaggio in privato oppure essere sempre aggiornato sulle varie promo appena escono e quindi guadagnare con i bonus di benvenuto allora valuta di seguirmi sul mio nuovo profilo instagram mi trovi cercando andrea zaccarelli trattino basso official pure cliccando sul link che trovi in descrizione detto questo sono giunto alla conclusione che per quanto mi riguarda quindi sulla base dei miei ragionamenti della mia situazione e tutto quindi non è assolutamente un consiglio che do a voi io sono aggiunto alla conclusione che terrò tutto sul conto corrente BBVA quindi al 4% lordo anno perché secondo me il chiamiamolo rischio di vincolarli o meglio passatemi il termine non è un vero e proprio vincolare perché li puoi prelevare prima ma vincoli il fatto che se li ritiri prima non guadagni nulla non ha interessi se no questo 1% lordo che considero praticamente nullo quindi questo rischio chiamiamolo così secondo me non vale il rendimento maggiore questa è appunto una mia considerazione e niente personalmente ho spostato tutta la mia liquidità dal conto corrente che avevo prima con unicredit al conto corrente BBVA non perché mi trovassi male in unicredit ma perché unicredit non offriva prodotti come questo cioè un conto corrente a tutti gli effetti col 4% lordo anno ho poi chiesto anche in azienda che mi venga accreditato su BBVA lo stipendio e ho domiciliato quindi spostato la domiciliazione delle carte American Express delle carte di credito da unicredit sempre a BBVA quindi adesso BBVA è ufficialmente il mio conto principale in termini di valore anche se come sapete l'ho già detto in altri video io per le spese di tutti i giorni utilizzo Revolut e American Express appunto mamma mia raga ho parlato veramente tantissimo so che vi avevo detto che vi avrei parlato anche della promo attualmente in corso di BBVA tramite la quale potete guadagnare 290 euro come bonus di benvenuto tuttavia verrebbe un video veramente troppo lungo quindi piuttosto ne parlo in un video dedicato quindi questo è il momento di mettere il telefono in verticale di cliccare sul tasto iscriviti così da non perdervi il prossimo video che uscirà date comunque un'occhiata sul canale perché forse questo video è già stato anche pubblicato se state guardando questo video un pochino dopo la pubblicazione comunque in pochissime parole se vi iscrivete e aprite un conto corrente BBVA seguendo il link che trovate qua sotto in descrizione e soprattutto inserendo il mio codice amico che trovate qua sotto ma anche sul mio blog andreazaccarelli.com dove poi trovate anche altre promo e bonus di benvenuto non solo quella di BBVA inserendo questo codice amico avrete diritto a 90 euro come bonus di benvenuto facendo determinate azioni e 200 euro invitando i vostri amici per completa trasparenza nei vostri confronti dato che mi piace essere trasparente al 100% vi dico che anche io guadagno per ogni amico esattamente come potete fare voi fino a un massimo di 200 euro per quanto riguarda invece il rendimento del 4% sulla liquidità quello non richiede procedure particolari viene dato in automatico quindi cliccate sul link qua sotto inserite il codice amico aprite quindi il conto corrente BBVA depositate i vostri soldi e successivamente mese per mese vedrete che vi verranno accreditati gli interessi sulla vostra liquidità spero che questo video vi sia piaciuto e che lo abbiate trovato interessante ti ringrazio e ti faccio anche i complimenti per essere arrivato a guardare il video fino a questo punto è stato un video bello tosto pieno di percentuali, dati eccetera per qualsiasi domanda, dubbio, scrivimi qua sotto nei commenti perché io rispondo sempre a tutti e in più sono davvero curioso di sapere quella che è la vostra opinione in merito a queste cose perché io vi condivido quello che faccio ovvero che ho spostato la liquidità dal conto corrente Unicredit a BBVA eccetera faccio dei ragionamenti che secondo me hanno senso ma sono anche davvero e sinceramente curioso di capire cosa ne pensate voi di questo movimento di soldi insomma grazie ancora per aver guardato il video fino a questo punto noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video ciao ciao